amiche e amici di gs in italia ben ritrovati per la sintesi della prima tappa dell'uai tour 2020 questa è la seconda corsa world tour della stagione e noi saremo presenti in tutte le tappe con le nostre sintesi vediamo quindi la prima tappa 148 chilometri completamente pianeggianti si parte la dubai nella zona della palma con la costruzione turistica all'interno del mare per arrivare alla zona di dubai silicon oasis il percorso è completamente pianeggianti come abbiamo detto però sul finale ci sono alcune curve seppur molto larghe qui le strade sono sempre molto larghe però che possono scombussolare un pochino i treni dei velocisti se ne vanno in quattro senza troppe difficoltà due corridori della gas prom sono scaroni e cercasov e due corridori della vinizabu leonardo tortomasi e il serbo velico stoinic questi quattro corridori combattono per i tre guardi volanti che segnano punti e secondaria buoni a loro interessano soprattutto i punti anche perché c'è una speciale classifica il primo sprint davvero lanciato molto lungo viene vinto dal corridore della vinizabu il serbo stoinic poi quattro si ricompattano a 101 dall'arrivo hanno a due minuti 31 anche perché il gruppo controlla molto sornione la situazione pienamente sotto controllo lo vediamo da anche dalla forma che al gruppo in questo momento non occupa tutta la corsia ma nemmeno in fine indiana quindi la situazione tranquilla in prossimità del secondo treguardo volante ci prova leonardo tortomasi bello lontano più di un chilometro però da treguardo volante preferisce anticipare i due gas però non si muovono e riesce a vincere tortomasi secondo treguardo volante al secondo posto proprio il compagno di squadra la fuga continua anche se però ormai ai minuti contati dietro il gruppo inizia ad aumentare la velocità infatti ai meno 14 il gruppo torna compatto soprattutto grazie alla spinta dei corridori della jumbo con tony martin che sta tirando tranquillamente da 100 chilometri come si è solito fare siamo vicinissimi al treguardo come vedete la strada è larga e sono queste grosse rotonde qui siamo ai meno 600 metri sta tirando a tutta caden groves con la sua ruota al compagno di squadra luca metz jack vediamo anche a destra dainese maresco a destra però esce a kerman velocissimo rudy barbier a sua destra a cale bion prova uscire groen e vegan arriva dietro velocissimo a kerman a kerman batte tutti ha scelto il giusto tempismo groen e vegan stava arrivando veramente forte sulla destra vediamo qui dall'alto parte magic magic però a kerman ancora più veloce si porta sulla ruota barbier cale bion perde il tempo giusto groen e vegan sale velocissimo e vediamo che sulla sinistra dainese e maresco qui dal davanti si vede proprio che non c'è stata storia insomma ha scelto il tempismo perfetto non era più veloce probabilmente groen e vegan in questo momento è ancora più veloce di a kerman però è riuscito a centrale esattamente il momento giusto e vince così la sua seconda vittoria nel giro di una settimana visto che domenica scorsa ha vinto il gran primo di almeria secondo posto iwan terzo rudy barbier essendo la prima tappa a kerman veste anche la maglia di leader oltre essere in testa anche la classifica punti vediamo la tappa di domani da atta atta dam la cosa più interessante sicuramente l'arrivo su uno strappo del 17 per cento il percorso non presenta particolari difficoltà si arriva fino a fuji ai rai coast per poi tornare indietro sulla stessa strada fino a arrivare a questo arrivo su una diga che è adatto sia a scattisti scalatori scattisti come può essere esempio un valverde in ottima condizione ma anche a velocisti leggeri come kelly bion che ha vinto proprio qui l'anno scorso quindi un arrivo non scontato adatto a molti corridori ci vediamo domani per la sintesi della seconda tappa del white tour ciao